Oggi vi propongo di fare un'altra attività super simpatica che noi di solito all'asilo ci piace fare tanto cioè utilizzare le manine e soprattutto impastare quindi oggi vi proponiamo di fare che cosa? i biscotti, che buoni! io sono sicura che le vostre mamme sapranno fare delle vigente super buone però oggi Jessica me ne propone una semplice e semplice da fare veloce e veloce e soprattutto dove bisogna usare tanto 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 le manine allora bimbi siete pronti? chiama della mamma e papà, anzi se ci sono tutti e due ve li ancora così ci diventiamo un po' di più ok? i miei ingredienti sono due uova, lo zucchero, un bottigliaio e mezzo l'olio di semi di girasoli perché non avevo il burro però chi c'è il burro può utilizzarlo la farina quanto basta una mezza bustina di lievito vanigliato la vanillina e il limone dove possiamo grattugiare e chi non ha la vanillina può utilizzare anche il succo di limone e la compuccia siamo pronti? iniziamo, io ho già, sono con una piccola pasticciona ho già iniziato a mettere le uova metto uno interno e il tuorlo e poi inizio con lo zucchero siamo pronti? via! allora, una volta che abbiamo iniziato tutti gli ingredienti e man mano abbiamo aggiunto la farina dovrà venirci un paletto così molto simpatico guardate? sentite? mettete le tettina dentro se lo sentite morbido 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 così vuol dire che siamo quasi alla fine facciamo giusto un'altra ripassatina ecco qua bene! e poi ci prepariamo una bella teglia con la carta da forno dove man mano andremo a stendere la nostra pasta e poi inizia la parte super divertente facciamo che cosa? le formine! dopo aver fatto tutta la nostra operazione dell'impasto adesso arriva la parte super divertente dove iniziamo a fare le formine ha ragione il nostro impasto su una teglia con una carta forno anche se l'impasto non è proprio perfetto perfetto non fa niente l'importante è stenderlo tanto adesso dobbiamo andare soltanto a schiacciarlo con le formine chi ce l'ha a casa tipo questa qua di gentica che è di Natale ma non fa niente possono essere cipollicini, sterline qualsiasi cosa avete a casa va più che bene prendiamo la formina e la schiacciamo forte 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 e da qui esce il nostro biscotto con le formine vedete? mentre chi non ce l'ha può usare una tazzina, un bicchiere qualsiasi cosa che è anche rotondo guardate, quello che avete a casa dobbiamo darvi soltanto delle forme e schiacciamo forte 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 ed esce il nostro biscotto vedete? rotondo allora, i biscottini sono andati in forno naturalmente la cottura considerate che sia per forno estetico che ventilato all'incirca 20 minuti, un quarto d'ora dipende poi comunque dal forno che abbiamo a casa in ogni modo i nostri biscottini non hanno una lunghissima durata andiamo a controllarli ogni tanto però questa è l'operazione che facciamo per alla mamma va bene, quindi io ora uno ve lo mangio e vi dico che non vedo l'ora di farlo insieme a voi la prossima volta che già a noi ci piace tantissimo fare i lavoretti con le mani però adesso vi lascio un grosso bacio e non vedo l'ora di bere il ripreso ciao, bimbi